Il progetto delle regioni Piemonte, Friuli, Venezia Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia punta a realizzare siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Contribuisce a stimolare la crescita, a creare occupazione. Ci avvicina ai nostri obiettivi energetici e climatici che il Governo è determinato a mantenere e anzi a perseguire con sempre maggiore convinzione. E, Presidente Emiliano, il suo riferimento al fatto di avere questo progetto a Taranto è particolarmente importante. La Puglia oggi è la maggior produttrice di energie rinnovabili e spero continui ad esserlo. Quindi molti degli investimenti che saranno fatti in questo campo vedranno anche la Puglia di nuovo come attore protagonista. E la locazione di questi investimenti vicino a Taranto è fondamentale perché il Governo intende riportare l'ILVA a quello che era quando era competitiva. E, come lei ha detto, è la più grande acciaieria d'Europa. Quindi non possiamo permetterci che non produca. che non produca ai livelli a cui è capace di fare, produce anche oggi. I progetti Bandiera intendono premiare le capacità creative degli enti territoriali, rafforzare la coesione sociale e territoriale. E, come dicevo prima, quelli di oggi sono solo i primi, ce ne saranno altri e voglio rivedervi tutti di nuovo qua. Grazie.